Questa è una delle stazioni dimenticate e chiuse da tempo, quella di Rigutino. I popolari per Gaghezzo chiedono che magari questa stazione, dopo alcuni interventi, possa essere riaperta per tanti motivi, a cominciare dal decongestionamento del traffico al fornire un servizio ai tanti abitanti della Val di Chiena. Esatto. Noi all'ultimo Consiglio Comunale abbiamo presentato un indirizzo votato all'unanimità che impegna l'amministrazione comunale a attivarsi presso Trinitalia e Regione Toscana a considerare e prendere inseriamente l'ipotesi della riapertura della stazione ferroviaria di Rigutino-Frassineto. Il nostro intento è quello di dotare un bacino potenziale di oltre 5.000 abitanti, che comprende appunto gli abitanti di Rigutino e delle frazioni di Mitrofe, e dotarsi appunto del servizio ferroviario che secondo noi va potenziato, quindi non solo per pensare all'alta velocità, ma appunto offrire ai cittadini questo servizio in modo tale da anche alleggerire, come appunto diceva, il traffico sull'SR71, in quanto è un'ottima, anzi una valida alternativa al mezzo privato. Perché i chilometri sono pochi, diventerebbe quasi una metropolitana di superficie, tra l'altro la linea c'è, i treni qui passano comunque qui davanti, quindi sarebbe davvero il minimo problema fermarsi un attimo per poi far salire o scendere le persone. Sì, noi abbiamo ovviamente un po' studiato la situazione, si tratterebbe appunto di piccoli interventi di manutenzione, e ovviamente l'opera magari più impegnativa è quella di la riapertura del sottopasso, che garantirebbe appunto l'utilizzo della stazione in piena sicurezza. E poi c'è l'altra cosa, una volta riaperta, che poi migliorino anche, una volta scesi ad Aghezzo, anche i servizi di trasporto pubblico urbano, no? Sì, esatto. Infatti noi abbiamo presentato questa iniziativa proprio perché in vista del rinnovo di contratto di servizio fra la regione Toscana e Trenitalia, noi speriamo che questa opportunità vada inserita in questo contesto, quindi un potenziamento del servizio locale e quindi appunto, come diceva anche lei, anche avanzare un'idea di metropolitana superficie che permetta appunto agli abitanti di questa zona di collegarsi a Rizzo, ma in tutta la linea Firenze-Roma, in piena libertà.